Questa notte i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 10 persone che sono ritenute al vario titolo responsabili di associazione mafiosa ed estorsioni consumate e tentate nei confronti di imprenditori edili con il metodo e le finalità mafiose. L'indagine in particolare copre un periodo di tempo che va dal febbraio 2017 al settembre 2017, un arco temporale nel corso del quale Giulio Capodrimo, scarcerato e poi riarrestato per un residuo di pena, ha avuto il tempo di riorganizzare il mandamento di Tommaso Natale nella parte occidentale della città, con particolare attenzione alle attività estorsive nei confronti degli imprenditori edili, attività estorsive che da sempre sono una delle principali fonti di reddito di Cosa Nostra al fine di incrementare le casse del mandamento e assistere le famiglie degli associati detenuti.